Benvenuti in questo mio nuovo trading system, questo sono il mio profitto di adesso, aperto tipo un'ora fa, 2,6%, io volendo posso chiudere come si vede la transazione in profitto, però secondo me posso guadagnare molto di più, perché io ho programmato un algoritmo che mi permette di capire qual è il momento in cui le banche centrali cambiano il sentiment e inversano il trend e quindi così so le manovre che fanno le banche, posso accodarmi alle cosiddette mani forti ed essere sempre un trader profittevole. Grazie.